buongiorno e buona domenica a tutti gli amici che seguono, siamo sul circuito internazionale del Volturno, Limatola, e oggi abbiamo un po' di poche bicilindriche, giusto 4 bicilindriche, abbiamo Pasquale Mandovano, questa qua bianca, abbiamo Nicola Ferrara con 126, eccolo qua, siamo Giuseppe Savoia in diretta, eccolo qua, buongiorno Giuseppe, abbiamo Milo qua, eccolo qua, facciamo un giretto buongiorno Dino, buongiorno 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 Buongiorno, Pietro Giordano e Pasquale Mandovato. Ecco le giure a tutti, quelli che ci seguono, grazie a Tommy che rende questa manifestazione visibile a tutti e facciamo i complimenti a te che sei sempre presente e dai visibili da tutti, va benissimo, un abbraccio a tutti, in bocca al lupo, a doma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Giacomo, buongiorno. Milardo, buongiorno, siamo in diretta, Gino. Buongiorno. Ci siamo quasi. Quasi siamo. Va bene, in bocca al lupo. Viva il lupo. Oh. Timmo Pulcino, qua, Giuseppe Salemme e Nicola Salemme. Esatto. Eccoli qua. Nicola, buongiorno, siamo in diretta. Buongiorno a tutti, buona domenica. Grazie. Buongiorno a tutti, buona domenica. Buongiorno a tutti, vediamo che va tutto bene. Va benissimo, in bocca al lupo. Abbiamo il bicilindrico di Masco, allo Francesco, qua. Sempre un gruppo 5700. Eccolo qua, bellissimo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici, buongiorno. Andiamo un po' da questa parte. Qua abbiamo un X19, se non R2SH, motore moto. Qua abbiamo un X19, se non R2SH, motore moto. Vado a vedere un attimo come in cima questo, per avere un po' di ricerca. Buongiorno, un altro cinquecentista d'occhio, Francesco Maggio 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 buongiorno antonio e stiamo all'imato no no andu provi siamo Peppe Saleme che provano pulciare Grazie a tutti. Andone, è una Formula Challenge, birilli in pista se non erro, dopo vi faccio vedere un po' la gara, cioè sono entrate le prime macchine, i PC 106, abbiamo quattro bicilindri che oggi. Eccoli qua, altri personaggi. Buongiorno, siamo in diretta. In diretta? Ecco qua, volete scendere? Scendete prima. Buongiorno. Ruggero, buongiorno. Buongiorno. Per fare qualcosa. Che dobbiamo fare stamattina? Eh, penso a dire, diciamo, sono al quarto. Tommaso è sempre presente, quando sta libero oggi. Eh, infatti. Voglio ringraziare a Tommaso per quello che fa. Grazie. Noi e tutti gli amici. E noi fanno la gara, va volo gelato. Saluto a tutti. Va bene, a dopo. Ciao, ciao. No, Antonio, no. No, non c'è il team Samu, no. Va bene, io stacco appena entrano macchine più interessanti. Faccio di nuovo la diretta. A dopo.